Benvenuti e benvenute ad un nuovo appuntamento Concescenza per te. L'ospite di oggi è la dottoressa Silvia Piconese, ricercatrice AIRC e professoressa associata presso Sapienza Università di Roma. Grazie mille dottoressa per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi dell'invito e di questa bellissima iniziativa. Nella puntata di oggi proveremo a conoscere il mondo delle ricercatrici e dei ricercatori AIRC che tutti i giorni sono impegnati nel rendere il cancro una malattia più curabile. La fondazione AIRC nasce nel 1965 grazie ad un'idea e al coraggio di due scienziati, il professor Umberto Veronesi e il professor Giuseppe Della Porta, che decidono di far fiorire la ricerca oncologica nel nostro paese. La missione della fondazione è quella di raccogliere fondi proprio per aiutare e sostenere i ricercatori per portare avanti il loro lavoro. Nonostante la pandemia possiamo dire che anche nel 2021 i numeri siano incoraggianti, infatti sono stati donati alla ricerca circa 120 milioni di euro e oltre 5.000 ricercatori sono appunto sostenuti da AIRC, ricercatori e ricercatrici, perché il 61% di questi sono donne e più della metà ha meno di 40 anni. Dottoressa, lei è tra questi 5.000 ricercatori e ricercatrici e quindi questo è sicuramente una bellissima notizia e volevamo chiederle qual è la sua esperienza, come si diventa ricercatrici e qual è la giornata tipo di un ricercatore. Allora, io ho avuto la fortuna di incontrare la ricerca oncologica all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che è stato il posto in cui AIRC è nata. Sono stati citati prima Veronesi della Porta, che sono stati fondatori di questa istituzione che è cresciuta tantissimo in questo tempo e per me poter affacciarmi, potermi affacciare al mondo della ricerca all'Istituto Nazionale dei Tumori ha significato entrare in contatto con ricercatori di grande rilievo internazionale, con un gruppo che mi ha insegnato e trasmesso la passione per la ricerca e soprattutto è stato lì che ho imparato il ruolo del sistema immunitario nel combattere i tumori ed è stato anche lì che ho conosciuto AIRC, all'Istituto dei Tumori, dove ho preso un dottorato internazionale di ricerca perché lì ho per la prima volta partecipato alle campagne di raccolta fondi nelle piazze, quindi noi ricercatori e ricercatrici siamo anche volontari, andiamo in piazza per ad esempio distribuire le famose azale della ricerca AIRC o le arance durante l'inverno e ho visto con le mie mani quanta energia abbiano i volontari AIRC e abbia AIRC per sostenere i ricercatori e AIRC ha finanziato una borsa di studio con cui ho potuto condurre i miei studi durante il dottorato e poi ha finanziato con dei grant, si chiamano, dei piccoli finanziamenti il mio progetto di ricerca, quindi per diventare ricercatori e ricercatrici ci vuole il sostegno da parte della comunità, della società in cui ci troviamo e AIRC per me rappresenta proprio questo intermediario, l'intermediario tra il mondo della scienza e le persone, le persone quelle che spendono anche solo pochi soldi per comprare un barattolo di marmellato o di miele. E la vita della ricercatrice beh com'è? Allora in questo momento ho un piccolo gruppo di giovanissimi, sono soprattutto ragazze devo dire, giovani donne, ma abbiamo finalmente anche il primo studente, per mentire il mito che abbiamo un gruppo solo femminile. Un gruppo molto giovane in cui ogni giorno ci sono sia momenti noiosi o faticosi o aspetti del lavoro che sono rutinari oppure aspetti del lavoro che sono più burocratici, ma come potete immaginare ci sono dei momenti di grande esaltazione che sono quelli in cui per la prima volta si immagina un nuovo meccanismo, un nuovo collegamento tra le cose che già si conoscono. Quindi è un lavoro molto bello e auguro a tutti i giovani che ci ascoltano di intraprenderlo. Grazie, grazie mille per questa testimonianza. Adesso entrando un pochino più nel dettaglio, volevo chiederle che cosa c'entra l'immunologia con i tumori e perché il nostro sistema immunitario è così importante. Allora quando pensiamo al nostro sistema immunitario ci pensiamo in riferimento alle allergie stagionali ad esempio o alle infezioni e purtroppo ci abbiamo dovuto pensare tanto in quest'ultimo anno perché il nostro sistema immunitario è quello che ci difende dal virus ed è quello che ci aiuta a rispondere ai vaccini. Ma già da molti anni gli scienziati si sono accorti che il sistema immunitario aveva un ruolo anche nel proteggerci dai tumori perché per esempio i tumori in cui c'è tanta infiltrazione di cellule del sistema immunitario sono quelli che vanno meglio, che hanno una prognosi migliore. Quindi abbiamo capito che alcune cellule del sistema immunitario ci proteggono dai tumori, ma col tempo abbiamo imparato a capire che ci sono altre cellule del sistema immunitario che si adattano alla crescita del tumore e lo proteggono dalla risposta immunitaria e questo fa sì che si crei una continua guerra interna tra la parte protettiva e la parte invece dannosa della nostra risposta. E fino a 10-15 anni fa avevamo tante conoscenze ma non sapevamo tradurle nella pratica, invece negli ultimi 10 anni abbiamo finalmente sviluppato e condiviso con i pazienti questa nuova immunoterapia che è una terapia basata sulla manipolazione del sistema immunitario. Grazie all'immunoterapia dei tumori che non erano curabili adesso lo sono diventati, pensiamo appunto al melanoma metastatico, al tumore del polmone e molti altri. E queste immunoterapia si basa sulla manipolazione tramite un farmaco della risposta immunitaria in modo da trasformarla in una risposta immunitaria silente in una risposta immunitaria attiva, quindi è di sicuro un momento meraviglioso per chi studia il sistema immunitario e i tumori. E quindi le cure immunologiche possono essere considerate una valida alternativa alle cure più invasive che solitamente conosciamo contro il cancro? Sì, adesso alcune immunoterapie o cure immunologiche vengono addirittura proposte come prima soluzione terapeutica. Voglio citare ad esempio la famosa terapia con le cellule CAR-T, anche questa è una immunoterapia che si avvale dell'uso di cellule ingegnerizzate e trasferite. Dobbiamo però ricordare che anche le cosiddette terapie tradizionali considerate più invasive come la chemioterapia e la radioterapia hanno anch'esse una base immunologica, quindi infatti molte chemio e radioterapie funzionano attraverso il risveglio del sistema immunitario, quindi non sono di sicuro da accantonare ma conoscere meglio i meccanismi può aiutarci a utilizzarle in maniera più adeguata. Grazie, invece parlando di prevenzione, esistono vaccini in grado di prevenire il cancro? Questa è una bellissima domanda e appunto ci sono stati tantissimi sforzi nella comunità scientifica per sviluppare dei vaccini contro i tumori, ma se già sviluppare dei vaccini contro alcuni virus può essere molto difficile e per esempio adesso non abbiamo ancora un vaccino contro virus dell'epatite C, virus dell'AIDS, è ancora più difficile sviluppare un vaccino preventivo contro i tumori semplicemente per la ragione che ogni tumore è diverso, ogni paziente ha un tumore che è geneticamente diverso e all'interno dello stesso tumore c'è una grande varietà degli elementi che possono essere riconosciuti dal sistema immunitario. Quindi è possibile che in futuro ci saranno dei vaccini personalizzati probabilmente più terapeutici che preventivi. Voglio però dire che noi abbiamo già nella nostra società dei vaccini già da molti anni che funzionano molto bene e che ci difendono da alcuni tumori e questi vaccini sono innanzitutto il vaccino contro l'epatite B. L'epatite B causa il tumore del fegato e abbiamo, siamo insomma, i più giovani di me sono vaccinati nell'infanzia contro il virus dell'epatite B e loro non svilupperanno il tumore del fegato associato al virus dell'epatite B. Un altro vaccino che voglio citare è il vaccino contro il virus del pavilloma e questo vaccino che è disponibile da alcuni anni protegge sia le ragazze che i ragazzi dallo sviluppo di tumori non solo del cervice dell'utero ma anche del cavo orale. Quindi abbiamo già dei vaccini semplici, sicuri, disponibili per tutti che ci difendono da alcuni tumori. Quindi è importante che tutti noi utilizziamo gli strumenti che la scienza ci ha già messo a disposizione. Assolutamente. Invece la pandemia ha cambiato tutte le nostre vite, lo sappiamo benissimo. Nel mondo della ricerca che cosa è cambiato? Sono cambiate un sacco di cose, sia molte cose sono state più difficili perché ad esempio durante il primo lockdown dell'anno scorso noi abbiamo dovuto interrompere alcune delle nostre attività, ci siamo dovuti fermare perché il momento richiedeva la nostra responsabilità e quindi è stato, abbiamo ritenuto nel mio gruppo in particolare che fosse più responsabile interrompere le attività invece che mettere a rischio la vita nostra e anche dei nostri familiari. Noi tra l'altro lavoriamo dentro un ospedale, il Policlinico Umberto I, molti di noi erano pendolari. Bisogna dire che non abbiamo assolutamente sprecato quel tempo perché è stata un'occasione in cui abbiamo studiato molto, abbiamo organizzato tantissime riunioni a distanza per fermarci a riflettere su cose che avevamo magari tralasciato, messo da parte per la troppa fretta e abbiamo imparato soprattutto a accedere, abbiamo avuto la possibilità di accedere a conferenze internazionali virtuali che prima ci erano assolutamente precluse. Devo dire che in questo anno sia io ma soprattutto le mie collaboratrici più giovani abbiamo avuto l'opportunità di seguire dal nostro divano di casa degli speaker internazionali di altissimo livello e questo ha veramente aumentato la nostra percezione della ricerca fuori dall'Italia. Adesso ovviamente dopo il periodo di chiusura abbiamo ripreso con grande energia, abbiamo recuperato il tempo perso, AIRC ha continuato veramente a finanziarci in questo momento di difficoltà per tutti ed è stato un segno di grande forza e di incoraggiamento per tutti noi. Molti miei colleghi hanno messo a disposizione le loro strumentazioni per la diagnostica del Covid ad esempio, quindi questo insomma i ricercatori che facevano ricerca sul cancro hanno aiutato anche la ricerca sul Covid, quindi la comunità scientifica e in particolare appunto la comunità AIRC non è stata comunque con le mani in mano. Grazie, grazie mille per questa testimonianza e quindi la ricerca non si è fermata e questo è sicuramente una cosa importantissima e soprattutto fare ricerca da quello che abbiamo capito è il primo passo importante per sconfiggere il cancro. Quali sono i modi grazie ai quali i cittadini, noi tutti possiamo dare una mano alla ricerca? Prima ne ha citati alcuni e sicuramente ce ne sono tanti altri, quindi se ha voglia un po' di raccontarceli. Sì, di sicuro appunto il modo più semplice è quello di donare quello che si può appunto AIRC e anche altri enti che si occupano di ricerca al campo oncologico organizzano delle campagne, la prossima sarà la zalea della ricerca per la festa della mamma e ci auguriamo sinceramente di poterla fare in piazza, in presenza e speriamo che fino a maggio sia possibile farla. Quindi di sicuro ognuno può fare delle piccole donazioni, AIRC per esempio permette anche le donazioni ripetute nel tempo, quindi se chi ci ascolta vuole andare sul sito troverà tutte le informazioni. Quello che però noi ricercatori, quello di cui noi abbiamo bisogno è di sentirci sostenuti, sostenuti anche a livello culturale, a livello sociale. A volte ecco, dopo tutto il sacrificio che facciamo, la fatica che facciamo, a volte è sconfortante vedere che tante persone non hanno fiducia nella scienza o appunto pensano che chissà quali interessi ci siano nascosti dietro ai nostri studi. Ecco, io vorrei chiedere a chi ci ascolta che il maggior aiuto che possiamo ricevere è la diffusione di una cultura scientifica, di una cultura della fiducia nella scienza. Questo di sicuro ci è veramente di grande conforto e di grande sostegno. Ecco, sarei felice che nella nostra società fare ricerca diventasse un privilegio, diventasse un'aspirazione, diventasse il lavoro bello e gratificante che davvero è. Quindi ecco, ognuno di noi può, e come si può fare? Ad esempio, ognuno di noi può stare attento alla condivisione dei contenuti sui social, nelle catene di chat con i nostri contatti. Ogni volta che condividiamo una notizia falsa o non documentata, alimentiamo delle catene di sfiducia e di fake news, di pseudoscienza. Ecco, ognuno di noi può cercare di coltivare questa cultura della scienza, anche nella propria vita quotidiana e con l'uso dei social. Quindi sicuramente appunto cercare di evitare le false notizie, tutto quello che è disinformazione, cercare di avere fiducia in chi come voi, tutti i giorni, fa un lavoro preziosissimo. E poi tra l'altro leggevo AIRC supporta anche una bellissima iniziativa da alcuni anni, che è appunto l'iniziativa legata ai ricercatori che vanno nelle scuole, ricercatori e ricercatrici e raccontano, un po' come abbiamo provato a fare noi oggi, ai ragazzi e ai bambini, che cosa fa il ricercatore, che cos'è. Questo credo sia un altro bellissimo aspetto, perché se riusciamo a iniziare dai più piccoli, non possiamo che trarne giovamento. Lei personalmente ha partecipato a questa iniziativa o sa di colleghi che l'hanno fatto, magari ci vuole dire due cose in merito? Certo, con molto piacere, l'ho fatto molte volte, l'ho fatto qui nella mia regione, nel Lazio, l'ho fatto anche in Sicilia, sia a distanza che in presenza. Ed è stata un'esperienza bellissima, sia per le ragioni che sono state appena dette, quindi di sicuro è importante cominciare a coltivare questa cultura della ricerca e della scienza fin da piccoli. Ma devo dire che è stato molto bello anche per me, per noi che incontriamo questi ragazzi, perché loro hanno un'idea di futuro che è molto diversa dalla nostra, hanno una grande speranza, hanno una visione più lunga, più importante, più forte, più intensa di quella che abbiamo noi. E ogni volta che li incontro torno con una energia rinnovata. Quindi ringrazio AIRC anche per organizzare questi eventi così formativi per noi, oltre che per i ragazzi che li seguono. Grazie, allora grazie mille dottoressa Piconese per il suo intervento, grazie alla Fondazione AIRC per averci messo in contatto con lei. Il suggerimento quindi, il consiglio per il pubblico che ci segue, è quello di continuare a seguire Fondazione AIRC sui canali social, quindi sia sul sito internet, ma sono molto attivi anche sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram. L'appuntamento con la scienza è la prossima settimana, quindi io vi saluto e vi ringrazio. Grazie ancora a tutti.